In questa bellissima giornata uggiosa, aspettativa della piaggia, passiamo dal Val Vertone verso le coste e ci sono ben 9 gradi umidi, molto umidi, ma 9 gradi giunghia. Svettiamo le coste di Sant'Eusebio, sempre 9 gradi, sempre cielo coperto, sempre umidità alta, sempre rischio di piaggia elevato, si scende. Sommo è messa a Giusebio, giù dei prespi e bei d'Italia, insieme a Odol e alle Verane. Viste che è appena passata Pasqua siamo ancora in tema di Via Crucis, incone qua un'altra che porta al Santuario di Santa Maria della Calchera, in quel del boschetto di Agnone. Gliusebio, la pianura non esiste. Ed eccoci arrivati al Santuario di Santa Maria della Calchera. Ci sarebbe anche una bella vista, ma sarebbe il ferrovo. Gliusebio, la pianeta non esiste. Gliusebio, la pianeta non esiste. Zape. Gliusebio, la pianeta non esiste. Quarto, sicuramente lo sul freddo. Grazie a tutti. Il santuario di Sant'Avella Calchiera, questo è il santuario di San Nino del XVII secolo. E questo è Binzahua, frazione di agnosi. Ricordi dell'ultimo Geroboam? E' arrivato da qua. Si passava sotto al volto. Il primo si va dritti. Il secondo invece porta agnosi. Sentiero, però. Cimentato sentiero. Dopo un inizio sterrato che fa tenere il peggio, in realtà è un bel cementone fin quasi in cima. Eccolo lì. Se è un cementone è un... La piangura non esiste. 22. Questa è la terza volta che la faccio. Le prime due, nell'altro senso, cioè in discesa. Ora è salita. E si sale al passaggio. Villo. 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 Grazie a tutti. E quindi vediamo il Val Bertone Caino, un'ora e quaranta e cinque. Vediamo. Oh raga, questa barretta mele cannella. Ambrò un po' lì da un po' lì. Guardate, qui si vede bene. Questa una volta era una strada, l'avevano anche cementata e scendeva in Val Bertone nel passo del Vino. Pasta Malghesi, basta Contadini, letto di torrente. E l'acqua fa il suo corso. Ed eccoci arrivati in Val Bertone. Ed eccoci ritornati all'ingresso sulle coste. E ora si torna a Casina, ma c'è... Grazie. Grazie. Grazie.